Benvenuti e bentrovati a tutti in questo nuovo video. Sarà un video breve, più che altro voglio parlare di questa polemica che è nata a seguito appunto dello scandalo che ha destato nell'opinione pubblica la pubblicazione del libro del generale Roberto Vannacci. Roberto Vannacci è un generale dell'esercito italiano nell'arma di fanteria che ha partecipato nel reggimento dei paracadutisti, un generale di divisione, che ha servito comunque in molte missioni in Somalia, in Afghanistan, in Iraq per conto naturalmente dell'esercito italiano. Egli ha pubblicato un libro presso la casa editrice di Rimini, Il Cerchio, di un certo Adolfo Morganti, se non ricordo male, sì appunto, ed è un libro che ha destato non poche polemiche. Il suo libro si chiama Il mondo al contrario, dove ha espresso molte preoccupazioni per quello che il mondo di oggi si è schiarato contro l'immigrazione, contro gli omosessuali, contro il femminismo di oggi. Diciamo, ecco, è un libro assolutamente non politicamente corretto. Egli ha detto, per esempio, nei confronti della campionessa della, di pallavolo Paola Egonu, che pur essendo lei italiana, ecco, non per il colore della sua pelle, non è, non è di fatto una, non che non sia italiana, ma ecco, non rappresenta lo stereotipo, comunque il tipo standard dell'italiano, dell'italiana. Ora, io non voglio entrare nel merito della polemica di quello che pensa. Generalmente non mi trovo molto d'accordo con la maggior parte delle cose che ha detto e che ha scritto e che sostiene, che ritengo siano opinioni di una certa anche, no, non dico ignoranza, ma comunque di un modo di pensare diverso dal mio. Questo libro ha destato talmente tante polemiche che questo generale è stato addirittura destituito dal loro ruolo che aveva nel centro, ora non ricordo, il centro comunque militare, geografico militare di Firenze, se non ricordo male, di cui era responsabile. E allora, chiariamo un attimo una cosa. Fermo restando, io sono per la libertà di espressione, qualsiasi essa sia, può essere di buon gusto e di cattivo gusto. Dico sempre che la libertà di espressione però è un diritto ma non è un obbligo, nel senso che se tu hai delle opinioni, sei di fronte, per esempio, a una transessuale, una persona transessuale, e dici, ma per me i transessuali sono dei mostri, sono delle persone, ma per quanto tu lo possa pensare, se è una persona particolarmente sensibile, la tua libertà di espressione in questo caso risulta, più che di cattivo gusto, risulta anche dannosa e nociva nei confronti della persona se ha una sensibilità particolarmente fragile. Potreste naturalmente non aiutare questa persona nel suo processo di accettazione della, anche nella società, del proprio stato, del proprio nuovo stato sessuale, ma comunque, quindi, fermo restando che ognuno può dire quello che vuole e se uno appunto può dire che una persona è una persona intelligente, può anche dire che una persona è cretina e totalmente ignorante, questa è libertà di opinione e di espressione. Questo generale che ha scritto questo libro ha espresso tante delle sue opinioni che hanno disturbato molte persone, le hanno, sì, per così dire, turbate, ma naturalmente, così come un libro che, un libro, un'intervista, un'opinione di una persona, diciamo così, di sinistra, va bene, usiamo questo termine politico, gli dice io sono favorevole alle adozioni o all'utero in affitto, per esempio, alle madri surrogate, può destare disturbi né in chi la pensa diversamente. È nell'ordine naturale delle cose, in una democrazia, in una società basata sul libero pensiero, sulla libera espressione. Ora si è creata una polemica se, però, un generale, quindi un alto grado delle nostre forze armate, abbia il diritto di dire quello che ha detto. Esiste nell'ordinamento militare un'ordinanza, la 1472, che se non ricordo male, del 2010, che ritengo sia assolutamente corretta. Cioè dice che i militari, così come tutte le altre persone, così come il caro direttore Vittorio Feltri, che noi spesso vediamo in televisione essere anche molto aggressivo e molto poco politicamente corretto, tra parentesi ho un rapporto piuttosto contrastante con il politicamente corretto, ma comunque. O la compianta Michela Murgia, che è appunto da poco scomparsa, che anche lei esprimeva opinioni che ad alcuni risultavano poco gradite. La stessa Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, membri del suo governo, il Presidente del Senato, Ignazio Larussa, hanno espresso opinioni, anche il suo Ministro dell'Agricoltura, nonché suo cognato, il Ministro Lollobrigida, hanno espresso opinioni, naturalmente, che ad altri hanno, alcuni le hanno condivise, altri no. Ma così come io posso dire qualsiasi cosa, con anche il rischio di poter prendere una denuncia per diffamazione, se racconto delle falsità su qualcuno, o posso beccarvi anche uno schiaffo se insulto una persona gravemente, per molestando che la violenza va punita, sempre è punita, questa ordinanza 1472 dice che i militari, così come tutti gli altri cittadini italiani, hanno il diritto di esprimere le loro opinioni scritte, orali che siano, purché non rivelino alcuna informazione che sia strettamente riservata, o che non abbia comunque, quindi legata al loro ruolo militare, ad ambienti militari, alla sicurezza nazionale, e naturalmente che non siano dotati almeno di uno specifico permesso per poter esprimere queste opinioni, opinioni sensibili. Ora, dato che in questo libro il generale Vannacci non ha espresso, non sembra, almeno io non ho comprato il libro, non l'ho letto, non ho intenzione di farlo, lo dico persamente, ma mi interessa, è una scelta mia, ma da quello che ho letto non ha espresso opinioni o comunque informazioni, non ha rivelato informazioni sensibili e che quindi potrebbero in quel caso compromettere il suo ruolo in quanto generale. Quindi la decisione che viene dalla difesa, in particolar modo poi sembra dal ministro Crosetto, il ministro della difesa, di un governo tra l'altro di destra, mi è destato non poche perplessità. Non perché il generale abbia detto cose che ad alcuni dell'ambiente di destra possono far piacere o comunque che condividano, ma più che altro perché non mi sembra che il generale abbia detto delle cose che come generale non poteva dire. Poi che abbia detto delle stupidaggini, abbia detto per me delle idiozie è un altro conto, ma a me non interessa. È un generale, mi interessa che un generale e qualsiasi militare, dal carabiniere semplice, al capo di stato maggiore della difesa, a un semplice marinaio, a un pilota, mi interessa che sappiano fare il loro lavoro e credo che anche voi, se voi andate da un medico per esempio, dal miglior specialista per quanto riguarda, non lo so, le operazioni alle ossa. E voi siete omosessuali. Il dottore dice, no io ti curo per carità, ma a me gli omosessuali non piacciono, nel senso, a me interessa soltanto che faccia il suo lavoro come medico, come chirurgo e che lo faccia bene. Poi se sia una persona di pessimo carattere o che abbia delle idee politiche che io non condivido, a me non frega assolutamente niente, mi interessa che mi curi come medico e faccia il suo dovere. Poi come persona è un altro discorso, può essere una persona ignobile, ma il suo mestiere lo sa fare benissimo. Ci sono tanti cantanti, per esempio, tante persone nel mondo della musica, che hanno un carattere terribile, insopportabili, che hanno delle anche idee, per esempio, Albano, Albano Carrisi, ha sempre detto, ha delle opinioni un po' contrastanti, anche buffe, quando disse che gli uomini, gli esseri umani hanno sconfitto i dinosauri e possono sconfiggere anche un virus, vabbè, una stupidaggine, ed è risaputo che non abbia un buon carattere. Ma è un cantante ed è, chi può piacere può non piacere, è un bravo cantante. Così come potrei fare tanti altri esempi, badate. Poi che sia una persona schifosa, che abbia un carattere terribile, è una persona che non sappia andare d'accordo con nessuno, ma è un bravo cantante, una brava cantante, e vabbè, a me non interessa. Io continuo ad ascoltarlo, se mi piace, altrimenti poco male, poco cambia. Quindi il fatto che un generale sia stato destituito dal suo incarico solo perché ha espresso delle opinioni che a molte persone non sono piaciute, io la ritengo un generale, tra l'altro, che è stato, oltre le decorazioni, che va bene, ma che è riconosciuto come un buon generale. Io credo che sia una perdita per la nostra sicurezza. Poi che abbia detto quello che ha detto e pensi quello che pensi, sì, molti hanno detto, e beh, ma ci sono magari molti militari, omosessuali, che per le cose che lui ha detto, o immigrati, o figli di immigrati, che si possano sentire in questo caso discriminati da lui, come anche non militari, senz'altro. Ma pensate che tutto il resto delle forze armate la pensi in maniera politicamente corretta? Pensate che tutti i politici che magari dicono di essere di sinistra siano realmente, la pensino realmente così, o siano solo delle strategie commerciali o politiche? O che il vostro migliore amico che vi viene a dire, no, a me non ho niente contro gli omosessuali, poi sia in realtà una persona omofoba in fondo? Questo è un problema che riguarda i rapporti interpersonali. Ma nei rapporti professionali è importante che all'interno della legge il generale Vannacci non è andato fuori da quell'ordinamento, semmai possiamo dire che è andato fuori dal buon gusto e che ha fatto una scelta e sicuramente gli avrà fatto guadagnare un po' di quattrini. Probabilmente fra qualche mese, quando la storia Vannacci sarà dimenticata, lui poi ritornerà, come è giusto che sia nel suo ruolo di lavoro, nel suo luogo di lavoro, abbia forse... alcuni dicono anche una promozione, chissà, può essere. Se se la merita, perché no? Ma un generale non deve, non è un politico che difende una parte e io mi stupirei se un generale avesse in un suo libro, e in quel caso avreste arrestato d'accordo, sulla sua radiazione totale, se avesse scritto cose, l'esercito italiano fa schifo, l'esercito ha commesso crimini che voi non sapete, vi racconto come sono andate le cose per esempio nella guerra in Kosovo, tanti esempi. Ecco, in quel caso un generale che dica una cosa del genere si prende le sue responsabilità o magari si dimette prima. Molti dicono sì, vabbè, ha fatto questo perché ora si vuole candidare alle elezioni europee, è probabile, è probabile anche che venga eletto. In quel caso, da politico, se si presenta come politico, è un altro discorso. Ma se lui vuole rimanere militare e vuole, ha scritto quel libro, come Roberto Vannacci, non come generale, anche se è un generale, a noi non ce ne deve fregare assolutamente niente e mi stupisco che il ministro, non perché sia di un governo di destra che apprezzi quelle cose, ma un ministro della difesa queste cose non le capisca e ceda a una pressione dell'opinione pubblica avversa a tale generale. Questo non mi piace assolutamente. Non mi piace quello che lui ha scritto, ma non mi piace allo stesso tempo che lui venga rimosso dal suo incarico pur rimanendo dentro quella che è la legge e quello che è l'ordinamento militare. Se una persona è un professionista e rimane all'interno della legalità e viene mandato via dal suo posto di lavoro solo perché qualche suo commento, qualche sua parola esterna che non c'entra col suo lavoro, con la sua professione, ha disturbato qualcuno e per evitare un pandemonio lo si manda via, io lo ritengo una profonda ingiustizia. Perché se il generale avesse scritto invece cose totalmente opposte, per esempio, ora non voglio citare Michela Murgia, per carità, è una donna che ha fatto tante cose e ha scritto tanti libri e è stata una persona di grande... ma c'è stato proprio l'editore del libro di Vannacci, il tale Morganti, ha detto che dovremmo essere tutti Michela Murgia? Di cattivo gusto, in effetti è stato. Cioè dovremmo scrivere tutti i libri come li scrive Michela Murgia, politicamente corretti? Non sono d'accordo nella forma ma nella sostanza sì sono d'accordo, nel senso che se il generale avesse scritto un libro in cui osannava e diceva sono d'accordo gli omosessuali dobbiamo, forse il governo sarebbe stato un po' meno contento. Ma vi assicuro che da parte di una certa opinione pubblica e da una certa risonanza non avrebbe destato molte preoccupazioni, non che desti preoccupazioni a me. A me interessa che questo generale mi difenda e faccia il suo dovere come generale e che difenda quello che è il giuramento che lui ha fatto, cioè di difendere la patria, la nazione e i cittadini italiani e in realtà in generale l'umanità intera quanto più possibile, dei civili quanto più possibile. Quindi io personalmente sono dalla parte di Vannacci da questo punto di vista, cioè che il fatto che egli debba essere reintegrato nel suo incarico a pieno titolo, poi che sia una persona, perdonatemi il termine di merda, quella poi è un'opinione di ognuno di noi, può dire ha detto una stupidaggine, ha detto una cosa giusta, ha detto una cosa così e così, alcune cose erano giuste, alcune cose erano sbagliate, quelle cose non c'entrano, non c'entrano col suo lavoro, è chiaro? Quindi se è una mossa politica e quindi Vannacci è ben contento di essere stato diciamo così licenziato per potersi dare ora a una carriera politica in vista delle elezioni europee che sono fra pochi mesi, saranno nell'inizio del 2024, è un altro discorso, ha fatto una campagna, ha iniziato una sua personale campagna elettorale, l'ha iniziata magari male, perché prima magari io mi dimetto e poi comincio a dire quello che penso, però sicuramente se si fosse dimesso non avrebbe avuto la stessa risonanza e quindi se è una strategia politica probabilmente vincerà le elezioni e potrebbe addirittura andare al Parlamento europeo, non lo voterò, lo dico, non lo voterò pubblicamente, se continuerà naturalmente a sostenere quelle opinioni come immagino faccia perché se no ti sei dato la zappa sui piedi per nulla, non lo voterò, ma questo non vuol dire che egli non abbia il diritto come tutti di esprimere le sue opinioni e che debba essere mandato via dal suo posto di lavoro soltanto perché la pensa in maniera diversa. Qua siamo ai limiti del fascismo, miei cari, perché nel fascismo succedeva che chi magari diceva un'opinione contro il regime fascista veniva cacciato dal suo posto di lavoro, vi ricordo le leggi dei professori universitari che se non giuravano fedeltà al regime erano licenziati e solo 12 si rifiutarono di giurare. Quindi io sono molto turbato dall'atteggiamento che non che l'opinione pubblica ma dello stesso governo, degli stessi vertici della difesa. Chiudo qui la mia personale opinione, non ho stima del generale Vannacci magari in quanto uomo, ma posso averla in quanto generale, in quanto militare, perché il suo ruolo da militare, che io sappia come risulta agli atti e da documenti, sembra aver fatto bene il suo lavoro nel suo reggimento, nelle missioni che ha fatto. A me questo basta per sapere se un generale deve restare o meno nel suo posto di lavoro. Poi quello che pensa sono affari suoi. Se lo vuole dire pubblicamente può farlo. Se vuole dire che gli immigrati sono persone orribili, può dirlo. Io sono contrario a quello che dice, ma può dirlo. Questo non vuol dire che gli debba giocare il posto di lavoro. A meno che non sia una strategia politica e che quindi lui sia ben contento di essere mandato via. Questi sono altri discorsi, lo vedremo fra alcuni mesi. Ma per adesso io ritengo che la sua radiazione, la sua destituzione dall'incarico che aveva precedentemente, sia vergognosa. Così come sono vergognose anche le sue, molte delle sue dichiarazioni. Ma è un altro campo, un altro discorso in cui il suo posto di lavoro non c'entra. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie. Fatemi sapere ancora, naturalmente, cosa ne pensate voi. Se siete dalla parte di Vannacci, se io sostengo lui, altrimenti siete d'accordo che lui venga destituito. E spiegatemi i motivi per i quali siete d'accordo. Io ho spiegato i miei, che non sono i miei motivi personali, ma sono anche agli atti, perché, vi ripeto, l'ordinanza 1472 dell'ordinamento militare, che prevede i militari, a meno che non rivelino segreti di Stato, segreti sensibili, possono esprimere liberamente le loro opinioni. Poi, che uno esprime opinioni, per me giuste o per me sbagliate, non mi interessa. Arrivederci.